signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e come forse avete visto dalla copertina questa settimana iniziamo con le novità che vi avevo promesso per l'edizione di quest'anno di scrivere una quest l'analisi del mega dungeon dove prendiamo il materiale che la comunità ha fornito per creare la nostra ambientazione collettiva e lo analizziamo per vedere cosa inserire cosa tenere e come trasformarlo in un'ambientazione vera e propria finora però abbiamo sempre parlato dell'ambientazione riferendoci ai testi a tutta la componente di narrativa anche perché quello è il mio campo di esperienza ed è quello che il 90 per cento di video di questo canale in un modo o nell'altro trattano però è arrivato il momento di diversificare anche un po le cose perché bisogna ricordarsi che il gioco di ruolo non è solo un'esperienza testuale anzi è un'esperienza multimediale ci sono molti tipi di arti creative che sono coinvolte partendo da questa settimana andremo a parlare anche degli altri media attraverso cui il gioco di ruolo si manifesta e come ho detto come avete visto dalla copertina cominceremo questa settimana con le arti visive ogni cosa a suo tempo però quindi cominciamo subito con l'analisi della fazione di questa settimana che saranno gli antichi costrutti che abitano gli strati più alti al dungeon e poi nella seconda metà del video avremo un ospite che ci parlerà di altre cose riguardo a questi costrutti e cominciamo subito con l'analisi del materiale sarà che l'associazione tra costrutti e informatica è abbastanza semplice ma praticamente tutti quelli che hanno fornito materiale per questa fazione hanno tutti fatto la stessa scelta per l'organizzazione cioè i costrutti sono divisi per directory chi ne ha messe di più chi ne ha messe di meno ma praticamente per tutti l'organizzazione dei costrutti ha una serie di sottolivelli e i costrutti che appartengono ognuna di queste directory si occupano di alcuni incarichi specifici a discapito di altri questo è un modo estremamente efficiente per dividere le sottofazioni all'interno di una fazione più grande era anche l'esempio che avevamo fatto nel video in cui ne parlavamo lo lascio qua se dovete andarlo a recuperare diciamo che normalmente fatto in una maniera così diretta potrebbe risultare scricchiolante ma dato che qui parliamo proprio di robot in realtà sembra perfettamente logico e in più è anche la nostra proposta in maggioranza quindi sicuramente procederemo con quella ci sono ovviamente state proposte diverse su quali siano esattamente queste sottofazioni chi ha fatto pochi gruppi molto grandi chi ne ha fatti tanti estremamente specializzati ma mettendo assieme tutto il materiale fondamentalmente tre sono state le idee che si sono proposte con più frequenza quindi alla fine quelle saranno le nostre tre fazioni una che si occupa della difesa del dungeon del combattimento una che si occupa di conoscenza informazioni cultura e ovviamente la preservazione degli antichi segreti dei creatori originali e poi una terza fazione che possiamo dire si occupa di facility management riparazione ristaurazione e in linea generale servizi per le altre due altra idea ricorrente che a capo e le varie fazioni ci siano effettivamente dei costrutti enormi che però siano entità fisiche non sono programmi informatici da qualche parte sparsi nella zona più alta del dungeon esistono questi mastodontici costrutti sovrani o come volete chiamarli che supervisionano e coordinano la fazione e tutti hanno detto che no non sono qualcosa che potete incontrare nel dungeon anzi sono i boss finali restano sempre nella stanza gigantesca dove sono conservati e preferiscono agire tramite intermediari ora una domanda che potrebbe sembrare scontata è quella che se questi costrutti giganti sono i boss finali sono i boss finali delle varie sotto fazioni non sarebbe meglio mettere più sotto fazioni per dare più idee più spunti per le quest ai giocatori in teoria si sarebbe meglio ma bisogna ricordare che in questo caso i costrutti non sono l'unica fazione che avremo in questo mega dungeon e anzi sono una fazione e le relative sotto fazioni limitate a una sola zona del mega dungeon che tra l'altro è anche quella probabilmente più densa ma proprio geograficamente più piccola quindi aumentare troppo le sotto fazioni in questo caso avrebbe voluto dire buttare molte idee addosso ai giocatori per quelli che vogliono parlare bene aumentare di molto il carico cognitivo che ricordarsi le informazioni della quest avrebbe comportato per i giocatori e di conseguenza se avremmo corso il rischio che semplicemente poi la gente andasse in confusione non si ricordasse più chi è a capo di quale fazione quale fazione si occupa di cosa per questo motivo limitarsi a tre fazioni ognuna con un compito molto istinto all'altro aiuterà a caratterizzare le fazioni ma senza costringere i giocatori a ricordare troppa roba solo per i costrutti quando avranno già da ricordare un sacco di altre robe per altri gruppi di png bene diciamo che abbiamo abbastanza informazioni per cominciare a lavorare sulla nostra fazione abbiamo tre sotto fazioni sappiamo di cosa si occupano queste sotto fazioni molto probabilmente qua dovremmo inserire un twist ma possiamo cominciare a vedere poi come organizzarla per renderla giocabile per permettere ai giocatori di interagire con essa in questo caso dobbiamo fare un passo in più rispetto a altre fazioni di cui abbiamo fatto in questa serie per via della natura stessa dei costrutti se tutti gli altri gruppi di png in un modo o nell'altro si può considerare siano organizzazioni spontanee non devono giustificare la loro esistenza questi sono letteralmente costrutti qualcuno li ha costruiti quindi dobbiamo dare qualcosa dobbiamo spiegare ai giocatori perché esistono in realtà non è niente di complesso anche guardando il materiale che è arrivato sia per questa fazione che per le altre che per gli anni scorsi diremo semplicemente che gli abitanti originali del mega dungeon avevano raggiunto un livello eccelso sia nelle arti magiche che in quelle tecnologiche e la loro sapienza è diventata tale che sono fondamentalmente diventate una civiltà post scarsità nel loro mondo nessuno più lavorava avevano macchine che si occupavano di tutto mentre loro passavano il tempo a portare avanti la loro ricerca e dedicarsi ad arte e cultura e quello che è la quantità di macchine a un certo punto è diventata tale che anche solo supervisionare queste macchine era un lavoro per cui sono state costruite altre macchine che supervisionassero le prime e così via fino ad andare a creare tutti quei livelli piramidali di organizzazione dei costrutti che sono comuni a tutte e tre le sottofazioni da qui poi è stato richiesto che questo sistema venisse ottimizzato per poter diventare ancora più efficiente e quindi abbiamo poi la versione definitiva con un sistema composto da quattro direttori principali ehi aspetta non avevi detto che le fazioni erano tre? sì ma avevo anche detto che ci sarebbe stato un twist il direttorio della difesa si occupava appunto di mantenere la sicurezza sia verso il mondo esterno che all'interno era una sorta di forza militare più polizia annessa il direttorio della cultura si occupava di trascrivere e organizzare tutta l'enorme mole di conoscenza degli antichi abitanti e nel caso fornire queste informazioni o educare qualcuno in qualcosa di specifico nel caso ce ne fosse stato bisogno e il direttorio dei servizi come abbiamo detto si occupava di manutenzione, pulizie e anche di pratiche mediche quindi riparava sia le cose che le persone tutti questi direttori erano organizzati sotto un quarto direttorio che faceva da supervisione raccoglieva tutte le informazioni che venivano passate dai vari costrutti attraverso la loro catena di comando le analizzava e poi implementava le strategie migliori per fare in modo che gli altri tre dipartimenti lavorassero nella maniera più sincronica possibile in modo che tutto fosse perfettamente amalgamato ora qua probabilmente la prima idea che verrebbe è ah certo poi il quarto direttorio si è ribellato e ha ammazzato tutti gli abitanti originali del dungeon la rivolta delle macchine Terminator sì ok però quello è già visto, è scontato ed è probabilmente la prima cosa che i giocatori penseranno quindi è esattamente il posto dove bisogna mettere il twist anche perché noi sappiamo una cosa sugli abitanti originali del dungeon erano persone estremamente intelligenti originariamente infatti per quanto fosse in larga parte anche esso estremamente automatizzato il quarto direttorio non aveva la capacità di agire autonomamente ma tutte le decisioni su larga scala venivano prese da un consiglio di saggi all'interno della comunità degli abitanti originali scelti tra i più grandi esperti sia di tecniche pratiche robotica quello che è il loro equivalente sia tra filosofi e esperti di dottrina morale per assicurarsi che tutte le decisioni prese siano argognose e soprattutto che le macchine non potessero governare se stesse geniale hanno fatto di tutto per evitare una possibile rivolta delle macchine e quindi il problema è che adesso che gli abitanti originali del dungeon non ci sono più il quarto direttorio semplicemente ha smesso di funzionare perché non ne era mai stato pensato per lavorare da solo tra l'altro l'idea che ci fosse un direttorio superiore che coordinasse tutto ma che adesso non funziona più era tra le varie cose presente se non ricordo male è stata proposta da Hanson ma anche altri avevano detto che potrebbe esserci un livello segreto qua il master volendo potrebbe inserire dei foreshadowing fare riferimento al fatto che i costrutti dicono che prendono ordini da un quarto direttorio superiore e poi il twist sarà che no effettivamente non c'è nessuno e i costrutti non sanno quello che stanno facendo proprio perché semplicemente il sistema adesso è rotto e per questo che funzionano così male sembrano agire a caso ma ovviamente un master potrebbe anche fare il contrario e no alla fine il quarto direttorio ha preso coscienza e adesso si tiene ben nascosto sempre meglio lasciare aperte tutte le possibilità ora poi per i dettagli e l'ambientazione l'avete vista nel video di presentazione quindi non sto a ridescrivere tutti i costrutti tutti i contributi perché l'abbiamo già fatto quindi normalmente io adesso direi che per questa fazione abbiamo finito tutte le spiegazioni sono state date ma come avevo promesso all'inizio questa settimana faremo qualcosa di speciale ma non posso farlo da solo quindi è arrivato il momento di andare a presentare il nostro ospite allora Dave vabbè intanto presentati chi sei e perché sei qui buongiorno a tutti io sono David Coletto mi trovate anche come Dave Concept Artist su Instagram sono un illustratore freelancer e un concept artist e sono qui invece di art director di Fabula Crew e niente sono qui per portare avanti il progetto del Mega Dungeon grazie a Kai che mi ha invitato soprattutto e più che altro grazie a loro che l'hanno scritto io qua mi sono limitato a fare da copyright parleremo anche di quello ok Dave io ho passato tutto il materiale che voi avete scritto e a questo punto la cosa è da professionista del settore se ti fosse arrivato questo materiale questa è un'ambientazione per un gioco di ruolo tu sei artista quindi realizzare delle illustrazioni per questa ipotetica ambientazione del Mega Dungeon come partiamo? qual è il processo che porterà da i testi scritti ad avere dei disegni che la gente dice dice che sighi i disegni si spera di solito comunque la parte principale all'inizio è la raccolta delle informazioni sì mi sono arrivati tutti i testi ho letto tutto quanto però i testi sì ovviamente andavano a fare un focus sulla parte narrativa io dovevo invece capire la parte visiva e è vero che sta a me crearla ma è anche vero che già nella testa di chi ha fatto il progetto c'è un'idea di partenza e infatti io ho chiesto a CAE visto che era il portavoce del progetto alcune informazioni che potessero guidarmi nella direzione corretta questo è stato il primo passaggio da fare innanzitutto dopodiché con le varie informazioni si è passati almeno al mio lato a creare una mood board che di qui adesso vi faccio vedere un esempio che è semplicemente diciamo già con le cose tipiche eccola lì che semplicemente è un brainstorming però dal punto di vista visivo io ho raccolto in base alle informazioni che avevo una serie di immagini di altri autori quindi non c'entrano con me e che semplicemente mi dassero l'idea generale e alcuni spunti per poter poi andare all'illustrazione definitiva e infatti qui avendo come parole chiavi questi guardiani antichi questi costrutti antichi sono andato a fare una ricerca per esempio su tutti che potevano essere dei golem dei robot che potessero sembrare antichi, vecchi ma non solo anche golem da guerra visto che si trattava di illustrare i costrutti guardiani del mega dungeon e poi c'era un'altra parola chiave ad esempio che era quella dei tentacoli o meglio i tentacoli erano stati descritti per un'altra fazione dei costrutti quella dei di servizio esattamente però visto che era qualcosa di interessante ho deciso di comunque esplorare quella direzione lì e quindi ho cercato delle reference che potessero servirmi anche da quel punto di vista là come penso stiano vedendo tutti qui non si tratta solo di cercare cose specifiche quindi per forza dei golem con i tentacoli ma qualsiasi cosa richiami dei tentacoli o comunque che mi desse uno spunto creativo ma non solo da questa parte qui ho preso cose totalmente diverse per esempio dei costumi di antiche civiltà anche fantasy ovviamente addirittura una tartaruga ma solo perché mi piaceva l'idea dello scudo per la difesa e quindi del carapace per la difesa e quindi l'ho riportata qui e infine alcuni glifi che potessero magari servirmi per fare una decorazione c'è da dire che tutte queste informazioni qui non sono state usate in toto ma sono semplicemente spunti che io ho preso oppure no sembriva per dare l'imprinting iniziale al progetto praticamente questa è l'equivalente di quelli che noi del reparto di scrittura chiamiamo i trop le idee archetipali da cui andare a sviluppare le cose sì esattamente io grazie a questo diciamo che dalla nebbia mentale che poteva esserci prima siamo passati a avere un paio di idee qui e lì un paio di idee che comunque con la fase successiva cominciano a prendere forma infatti se dici io passerei alla fase successiva sì ok diciamo che adesso in un contesto reale a questo punto la mood board sarebbe poi presentata a tutti gli altri creativi del progetto per vedere se tutti sono d'accordo con questi riferimenti dato che qua eri da solo sta cosa è stata molto veloce e molto facile sì effettivamente non ho pensato alla visione del team ma la mood board e tutti i passaggi di queste cose qui sono utili proprio quando si va a lavorare in team nel senso che sì è vero c'è un lato solitario e utile nel lato solitario che è quello di passare dalla nebbia mentale a qualcosa di definitivo definito ma allo stesso tempo servono tutti i passaggi a cercare una conferma nel team e quindi essere sicuri di stare andando nella direzione giusta ok dato che tanto loro non ti possono rispondere perché non siamo in diretta abbiamo poi scontato che loro approvino e la mood board è stata approvata adesso cosa facciamo? adesso si va a fare una ricerca sulle forme e si passa a una fase che è definita di silhouette siluetting dove a tutti gli effetti quello che noi cerchiamo è semplicemente una forma interessante qualcosa che ci possa aiutare ad esempio io qui ho creato sì dei tentacoli ma dei tentacoli meccanici per esempio e si può vedere che per esempio alcuni hanno degli spuntoni per sembrare più aggressivi altri come esempio questi qua in basso avevano delle piante delle liane per ricordare che sono antichi e magari nel tempo la vegetazione gli è cresciuta sopra ma il punto fondamentale è che passano il giusto quantitativo di informazioni queste forme nel senso che nonostante sia tutto nero noi possiamo già avere un'idea di quello che ci troveremo davanti certo mancano i dettagli però per esempio se fossero state da citare i personaggi della Disney sarebbero stati tutti più tondeggianti meno spuntoni meno aggressività in generale e quindi si va già dalla forma generale a definire qual è l'approccio del personaggio l'approccio dei nostri confronti che il personaggio avrà in questo caso tendenzialmente aggressivo ma anche possente nel senso che per esempio questo ci dà già l'idea di una forma piena così di qualcosa di difficilmente attaccabile è bello massiccio e non vuoi incontrarlo in un corridoio esattamente ma qui si fanno anche già alcune scelte per esempio io qui avevo fatto un tentativo con un personaggio umanoide che non mi ha soddisfatto appieno perché secondo me c'erano fazioni per esempio quelli della terza fazione quella sono quelli di servizio i guardiani ah sì sono i guardiani quelli di servizio e poi ci sono quelli della cultura che sono descritti proprio come umanoide volutamente a forma umanoide e in quel caso magari terrei forme di questo tipo per quella fazione lì anche questo ho provato una forma che magari potesse richiamare un armadillo comunque una creatura con uno scudo sulla schiena però anche qui con le quattro zampe inquietanti fin troppo organico esatto secondo me non rendevano abbastanza l'idea di un golem antico andavano troppo sull'animalesco e quindi alla fine sono andato in una di queste direzioni e soprattutto qui mi sono fissato perché avevo deciso più o meno la forma delle gambe nella mia testa si intende e ho fatto alcune prove di forme generiche ancora qui non c'è nulla di definito però l'imbuto si sta chiudendo verso una direzione un'idea di come dovrebbero apparire poi i personaggi adesso ce l'abbiamo hanno hanno cominciato a avere la loro caratterizzazione sono passati da essere una serie di idee generali su cosa dovrebbe essere un antico costrutto a essere lo specifico costrutto che sarà all'interno del mega dungeon esattamente diciamo che è qualcosa che quando voi vedete quella silhouette se tutto se il lavoro è stato fatto bene non dovreste pensare ah è un robot dovreste pensare ah la fazione dei costrutti del mega dungeon esattamente ci sono alcune cose come abbiamo visto prima già i tentacoli sappiamo che li definiscono ora sappiamo che hanno delle gambe fatte in una determinata forma che hanno un corpo massiccio e tant'è questo ci basta per andare a una possibile fase successiva e anche comunque a livello di team ci aiuta a capire se stiamo comunque andando mentalmente tutti nella stessa direzione ok a questo punto la cosa anche qui diciamo che il nostro team ha approvato perché sono costretti a farlo quindi spiace per loro adesso abbiamo abbiamo l'idea abbiamo un'idea di come verrà realizzata poi all'interno della nostra ambientazione la gente è qui perché vuole vedere le illustrazioni quindi ok andiamo alla parte più succosa come tutti gli aspetti tecnici dello sviluppo di qualcosa la maggior parte di quello che voi non vedete è molto più importante di quello che vedete però adesso vedete le cose fatte bene vi faccio vedere un po' dietro le quinte quello che non vi fa vedere di solito la maggior parte della gente è che in realtà poi dobbiamo definire dei dettagli a questo punto è ora di cominciare a capire che forma avranno a tutti gli effetti e qui mi sono andato ispirare direttamente all'arte antica e quindi a incisioni o sculture di epoche passate da varie parti del mondo perché alla fine non avevo nulla che mi direzionasse già in una specifica cultura e quindi ho fatto varie prove in questo caso soltanto tre a volte se ne fanno di più a volte di meno dipende dai casi e però ho riportato quello che si vede già nell'arte antica direttamente qui quindi questo faccione qui è diventato parte della forma interna qui ma allo stesso tempo alcuni dettagli qui che prima non erano definiti sono diventati fogliame o comunque quello che ci può indicare che sia fogliame con delle liane che scendono gemme incastonate ma il potere del del siluetting in questo caso nello specifico è shape carving è proprio quello di si definire le cose ma lasciarle ancora abbastanza vaghe per poter fare tutte le correzioni del caso se per caso ci trovassimo nella situazione in cui per esempio al gruppo questo dettaglio non piacesse se ci fosse qualcosa da modificare siamo ancora in alto mare da quel punto di vista e tutto si può fare qua bisogna dirlo tecnicamente questa cosa è successa anche se involontariamente perché adesso sto vedendo le immagini per dare questo senso di civiltà perduta e abbandonata tu hai usato liane e fogliame esattamente ma poi quando abbiamo discusso questa fazione abita nella zona fredda quindi tecnicamente no non c'è vegetazione esattamente e infatti qui si vede la potenza di questo metodo e io passerei subito all'immagine successiva già da qui così lo vediamo ci ha lasciato la possibilità di passare dalle liane a dire ok però questa forma la cambiamo le liane le togliamo ed è diventato uno spuntone di ghiaccio queste che prima per me potevano essere delle spine di qualche liana di qualche pianta sono semplicemente diventate spuntoni di ghiaccio senza dover fare grosse modifiche è proprio questa la potenza di questo metodo qui ovviamente noi stiamo vedendo un metodo esteso dipende dalla situazione si può anche decidere di passare direttamente all'illustrazione però se noi cerchiamo di costruire un mondo con una lore particolarmente sviluppata e cose del genere è anche giusto prendere in considerazione tutti i dettagli e tutte le possibilità sì in modo che l'aspetto visivo sia coerente poi con quello che è stato scritto a riguardo esattamente io passerei subito all'ultimo passaggio visto che ormai è chiaro e l'ultimo passaggio sono semplicemente delle prove di colore e infine quello che viene definito in jargo rendering ovvero quando si va a applicare luci ombre texture e tutto quanto per arrivare a un'illustrazione definitiva ovviamente io vorrei sottolineare come per lui questo è semplicemente l'aggiunta del colore qualcosa che io neanche se ci mettessi dieci anni riuscirei a farlo ti ringrazio immagino che per te sia banale banale no perché comunque come bisogna saper fare bisogna saperci mettere sulle mani e anche in questo caso si tratta di un'illustrazione fatta per questo progetto quindi in velocità nel senso che ho dovuto gestire tutto quanto e sicuramente gli illustratori bravissimi lì fuori ce ne sono che sanno fare di meglio in metà tempo però grazie per sottolineare che tutti sono più bravi di me non volevo dire questo no no ok vabbè complimenti complimenti a parte questo è tecnicamente il nostro risultato finito l'ipotetica illustrazione del bestiario del nostro robot ovviamente questa è la mia visione delle cose come lo è stata di tutti quanti dare la loro aggiunta però di cosa possiamo dire ora sappiamo che i costrutti se dovessimo farne anche di diversi soprattutto quelli della difesa sono definiti da tentacoli sono definiti da spuntoni di ghiaccio che li rendono più aggressivi ma soprattutto sappiamo che almeno una tipologia di gemme che si trova all'interno del mega dungeon è di color giada sono decisioni che ho preso io in autonomia se ci fossero stati dei testi che ne parlavano in maniera più specifica avrei preso da quelli avrei riadattato tutto quanto partendo da quelli però ora abbiamo sufficienti informazioni soprattutto anche sappiamo che è uno stile di origine indiana o proto indiana come stile abbiamo anche un riferimento per immaginarci i dettagli del dungeon o per il master quando va a descrivere le cose uno dei vantaggi grossi delle illustrazioni per il motivo per cui la maggior parte dei manuali e il gioco di ruolo che vedete hanno delle illustrazioni è proprio che il disegno è tra tutti i tipi di comunicazione quello che può fornire il maggior numero di dettagli nel minor spazio possibile il robot che hai disegnato se dovesse essere descritto nei dettagli probabilmente sarebbero due o tre pagine di testo ma l'immagine solo guardandola trasmette tutti quegli aspetti è il motivo per cui le illustrazioni sono molto importanti soprattutto nel gioco di ruolo perché ha anche le sue componenti visibili certamente come abbiamo detto dall'illustrazione noi possiamo capire un po' tutta la la morfologia del mega dungeon o meglio della parte della città antica del mega dungeon ora sappiamo che ha quell'idea indiana nello stile inglobata nel ghiaccio vale tanto per i costrutti ma per coerenza varrà per tutte le strutture di quel posto va bene allora grazie per questa settimana sei libero anche se ti richiamerò settimana prossima perché abbiamo un'altra fazione di cui parlare grazie mille io mi sono divertito un sacco e onestamente spero si possa rifare in futuro e magari in una futura edizione ma non vorrei mettere allargarmi troppo vedremo sarebbe bello anche collaborare proprio con la chat con il gruppo in generale per arrivare a una cosa definitiva quindi sta a voi per il terzo anno del mega dungeon grazie mille e come avete visto c'è molto più di quello che sembra dietro la realizzazione di ogni illustrazione per un gioco di ruolo e anche non per un gioco di ruolo e in realtà non abbiamo neanche visto tutto per quanto riguarda le relazioni tra un'ambientazione e le illustrazioni relative a questa ambientazione ma di questo parleremo la settimana prossima quando andremo a vedere la fazione dei coloni fino ad allora la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti come voi avreste organizzato la fazione dei costrutti o magari se c'è qualcuno di voi che si dilettano le arti visive come voi avreste rappresentato i costrutti magari fate le vostre illustrazioni nel caso facciate illustrazioni però non venite a darle a me vi lascio qui sotto nei commenti i link di david dove potete inviargli direttamente i vostri disegni o semplicemente andare sul suo profilo e fregarvi i disegni che ha già fatto per poi usarli nelle vostre quest prego dave non c'è di che come sempre se questo video vi è piaciuto mettete un like e condividete ho dovuto crescere il canale passate sul link di dave e mettete un like anche a lui iscrivetevi e scacciate la campanella se volete ricevere le notifiche e io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video e noi ci vediamo